e attenzione andiamo andiamo come andare io ho fatto una chile a condotti e basta e devo ancora finire le missioni della settimana 6 però va bene perché non ho avuto tempo e quindi le sto facendo adesso però dai siamo positivi io te l'ho avuto lì allora con i lotti confusi oppure andiamo a magazzino a consumare le rocce saltarine no andiamo con i lotti confusi meglio meglio ma quanto è bello locce bus ok via sì c'ho la scintilla anche svec sarà pieno no vai tra no non penso dai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oddio ma sono un fottio ci saranno come minimo 10 team qua certo boh ce n'è più di uno però infatti Gesù ok mi stanno sparando mi stanno sparando non posso proteggermi non posso proteggermi bene Gesù mi sta rincorrendo uno che non ha armi ho una pistola a terra a terra a terra a terra no no ho fatto due kill alla fine e tu non ce l'hai il quadro eh non ce l'hai il quadro eh 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 la gente ce la mette poca poca no guarda quello lì che prende il pompa raro ma io ti picchio no cosa 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 ok no vabbè aspetta adesso per morire aspetta sai dire che ci sono morto anch'io mi piace l'ho messo a terra l'ho messo a terra l'ho anche lì di nato con il fucile da caccia oh mio dio io ho fatto nulla l'hai non ce la faccio a fare sto a essere quattro nooo se facevo la doppietta con il fucile da caccia da ravvicinato mamma mia andiamo a fare l'ultima chiara quando ti confusi yeah fai l'ultima io devo fare ancora la parola quando ti confusi la farai la farai io credo in te il cuore è tuo naruto ok ma si è per arrivare basso dove scendi tu mette io di solito ho avuto e ce lo muoio io scendo io scendo io scendo che lo credo al busto il busto e se ti dicessi che sono una croazia sei in croazia che sono una croazia dai sono sono fottuto cavolo come la ho fatto l'ultima chiara quando ti confusi nooo ma da dove ma da lì dietro ma ti voglio tanto bene ho finito le kill bella adesso la quale è facile Gesù sarà anche ma è bellissimo adesso andò facile con una pistola ti è cecchinato vabbè vuoi andare qua ancora? sono qua dai nooo ok scintille facciamo 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 dai facciamo una bella partitozza no io prima mi prendo l'arma perché se già come va bene se schia senza specialmente se l'arma eccetera ah qui c'è anche cosa della fine del pass c'è anche la della fine pass dove mi ricordo ah ok quello un pompa 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 la mia pompa la mia pompa aspetta la mia morte è imminente la mia anche la mia no guardalo lezzo proprio lezzo nooo lezzo ma dai ma tua 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 è che è che si era proprio messo lì sopra il tetto dello stadio sopra il tribuna a camperare di gioco come un bello ora dimmi in grado vai tu ad ovest curva nord navè andiamo qua tipo qua anzi vado qua ho un cartello mettete altri 20 2 altri 18 3 4 6 7 8 9 10 11 12 12 12 perché sono di fianco mette dai vedrai quello che non te lo rubo 12 13 14 dai 15 16 16 17 18 dai mi mancano 2 invece ne sono più di 2 si 19 non manca l'ultima ho finito le due missioni bella andiamo a fare qualche kill con buccele d'assalto adesso adesso andiamo a fare di cool qui c'ho 1 meter vieni qua vieni qua non ho armi non ho armi non ho armi dove 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 è qui c'è un altro metto dove sei tu è qui è qui è qui è qui lo lo dai dai ottimo 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 miiicchia dai però era ho anche messo male l'ultima di vita si si fa una vera mi serve un pompa questo guarda qui mette è bellissimo si usa si usa si è schiuso si è schiuso ah si è schiuso non si potrebbe tipo entrer no beh ci starebbe se potesse entrare dai colpi cecchino così quasi mi prendo questo e me lo butto io questo fucile perchè non mi serve eh niente no non ho cecchino colpi cecchino colpi cecchino no non ho niente allora io inizio a risalire ok dovrei fare anche delle quine con le mitragliette io col ciocchiero questo qui e questo qui ok bello una scala a casa ci sta non so non so facciamo missioni quelle con le armi adesso oppure quella di campi da calcio o no no se non dirà ma invece si c'è da fare che con i piccoli da salto se non non so ma io come salgo oppure mette anni col piccone la mette a terra non so si facciamo quello dai facciamo quello che lo sa dove noi sulla montagna nord est ma è lontanissimo ecco ora sa dove siamo è il tipo atomato? non potevi riuscire a stare eh questo qui è un po' molto vicino ah dici dove c'è quell'albero là no no è lì è a 15 dietro quel coso atomato dietro quel coso atomato tipo il tipo da pomodoro davanti al pomodoro davanti al pomodoro come fai vedere ok ecco il cerchino vabbè non è vero è sopra è sopra la galleria no ho capito ho capito no ho capito ho capito buona guarda non save non so cosa voglio fare che nessuno non so si andiamo a farci la save dai e no va bene avrò spaccato questo no dove ah sud ovest ah si li vedo cioè lo vedo hai preso? non ho materia dietro 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 l'ho mirato un paio di volte c'è in due c'è in due no c'è uno qua mette eh ormai sono morto per poco stiamo un pochino più avanti non lo vedo scomparsi bello 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 ok bello 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 bello